Oggi a Forbes Leader vi raccontiamo una storia che non è solo una storia imprenditoriale ma è quella di una famiglia. Qui con me nel nostro salotto c'è Andrea Margaritelli, un nome indissolubilmente legato a un prodotto molto particolare, parliamo di Listone Giordano, ma obiettivamente non solo legato a questo perché la storia della vostra famiglia, la storia imprenditoriale della vostra famiglia, inizia potremmo dire 150 anni fa, quindi una vera epopea potremmo dire. Sì esattamente, Listone Giordano è il marchio per il quale il gruppo Margaritelli è più conosciuto, in realtà operiamo nel campo delle superfici in legno con il marchio Listone Giordano e nel campo molto lontano apparentemente delle traverse ferroviarie, in legno e anche in calcestruzzo, in cemento armato precompresso per il mondo ferroviario che è stata un po' una delle nostre origini. La nostra famiglia, come gran parte del tessuto imprenditoriale italiano, la nostra è un'impresa che ha il carattere familiare e effettivamente l'origine è data 150 anni fa, ci apprestiamo l'anno prossimo a festeggiare i nostri 150 anni. Nati dal mio bisnonno per produzione di utenzi, di meccanici per agricoltura e silvicoltura, ci siamo trovati per oltre un secolo a occuparci del legno, una materia che amiamo particolarmente e che curiamo dall'origine. E proprio, se non sbaglio, proprio dalle traversine del ferroviario, insomma è nata poi tutta la storia. Sì, come io credo spesso accada nelle imprese, non tutte programmato e studiato a tavolino. Spesso le cose sono influenzate dal caso, alcuni sono casi favorevoli, altri sono momenti di difficoltà. La nostra è una storia effettivamente di impresa che attraversa i decenni, attraversato in questo caso i secoli, conoscendo momenti di grande successo e altrettante difficoltà. Noi arriviamo alle traverse ferroviarie a seguito della prima e seconda guerra mondiale che avevano stravolto l'economia e modificato la struttura produttiva che aveva conosciuto invece mio nonno che si occupava di carbone vegetale e di legna d'ardere, quindi usava il legno ma lo trattava a livello nazionale ma come fonte di energia, come combustibile. La generazione successiva si è trovata invece a intravedere nella ricostruzione del dopoguerra una grande opportunità, non si trattava in quel caso di ricostruire edifici o strade ma nelle strade ferrate, nelle ferrovie è stata individuata una chance, una possibilità. Le traverse ferroviarie sono una parte fondamentale di un percorso ferroviario. Sono fatte del legno più forte, dell'albero principe più importante della cultura del legno europeo, il rover e la quercia e siccome in Italia non c'erano le quantità sufficienti per poterlo garantire e far bisogno necessario, questo ci ha portato negli anni Sessanta ad andare in Francia e scoprire in Borgogna una tradizione di selvicoltura millenaria che ci ha dato a tutt'oggi un grande elemento di forza in più. Conoscere il materiale fin dalle prime fasi, dall'origine, è oggi uno degli elementi che contraddistingue e che rende più unica l'attività di Vistole Giordano. Tra l'altro c'è una grande attenzione anche ambientale presso questo sito francese di cui parlava perché so che c'è una rotazione per cui c'è una ripiantumazione continua. Sì, contrariamente a quanto qualche volta si possa ritenere, il legno è prima di tutto un materiale ecologico e sostenibile per eccellenza, impronta, impatto zero, se gestito in maniera sostenibile, cioè in maniera durevole. In effetti, se ci pensiamo, è un materiale, forse l'unico, che è alimentato unicamente da energia solare e acqua. La fotosintesi è questa formula straordinaria che permette di trasformare anidride carbonica in ossigeno e quindi svolge una funzione fondamentale per il pianeta. Oltre il 50% della capacità del pianeta di assorbire anidride carbonica deriva proprio dalle foreste. E se le foreste sono ben coltivate, produce sempre a favore dell'uomo come materiale di risulta anche il legno, che è un materiale straordinario sotto il profilo estetico, di isolamento acustico, ovviamente termico, soprattutto regala grande benessere ai nostri occhi, al nostro sentire. E la riforestazione è l'anello fondamentale. Noi cosa facciamo? Ereditiamo oggi un patrimonio straordinario che ci è lasciato dalle generazioni precedenti e ricambiamo questo gesto di lungimiranza affidando noi stessi alle successive generazioni questo materiale. Può sembrare sorprendente, ma per far crescere una pianta di rover in Francia, secondo questa cultura, si può avere molta pazienza. Ci vogliono circa 180 anni. Beh, insomma, se lo può permettere giusto una famiglia come la vostra, che continua di generazione in generazione la stessa attività. Però le volevo chiedere, qual è stato poi il punto di volta? La chiave di volta è il momento di spaccatura in cui proprio è nato l'Istone Giordano, che è la coda che vi ha reso comunque popolari, possiamo dire. Sì, l'Istone Giordano nasce ancora una volta da una crisi in realtà, non è un progetto a tavolino. Le traverse ferroviarie negli anni 70 conoscono una flessione importante perché vengono rapidamente sostituite dal cemento armato precompresso. Si tratta di fare una scelta, seguire il mercato e quindi cambiare il prodotto oppure seguire la capacità, il know-how, le competenze sul legno e indirizzarle altrove. Scegliamo questa seconda strada e quindi ci inventiamo in qualche modo un'innovazione, un nuovo percorso sulla strada delle superfici da interni. Prima producendo in maniera migliore, con piccoli accorgimenti, pavimenti tradizionali e poi dalla collaborazione con un grande scienziato, un tecnologo del legno di fama internazionale, Guglielmo Giordano, da cui il nome è l'Istone Giordano, nasce un brevetto frutto fortunato della collaborazione fertile tra industria e università, un prodotto che supera le prove di laboratorio ma soprattutto negli anni successivi supera molto brillantemente le prove del mercato. Il mercato lo riceve come un prodotto che modifica completamente il panorama delle pavimentazioni in legno, detta fissa degli standard nuovi sul segmento alto del mercato delle pavimentazioni in legno, libera, il pavimento in legno da determinati vincoli tecnici, offre una soluzione del tutto nuova, effettivamente con delle libertà, dei gradi di libertà non conosciuti prima e i risultati hanno dato ragione. Oggi l'Istone Giordano è il risultato di questo percorso. Esatto, perché poi arriviamo fino ai giorni nostri in cui l'Istone Giordano è diventato sostanzialmente prodotto per i designer. Sì, ci rivolgiamo assolutamente di riferimento a una clientela che sa riconoscere le differenze numerosissime che sono all'interno di un prodotto complesso. La filiera è lunghissima, si parte dall'albero in piedi in Francia che viene gestito attraverso un ciclo di 180 anni, quindi ovviamente sono sette generazioni che si passano al testimone, per 20 passaggi produttivi dove i valori differenziali sono veramente tanti e numerosi. Però sicuramente l'aspetto estetico resta e continua ad essere rilevante. Ci rivolgiamo a una clientela che sa riconoscere questi valori differenziali, visibili, tangibili, alcuni intangibili ma importantissimi, materiali. Pensiamo al tema della tutela della salute, della difesa del comfort all'interno della propria abitazione, anche in termini di protezione della salute. Ma lo facciamo ovviamente molto spesso, quasi sempre per il tramite di chi ha cultura della progettazione, architetti, interior design che trovano nei nostri prodotti, nelle nostre collezioni, una scelta molto ampia ma anche molto la possibilità di poter personalizzare, di poterci chiedere e realizzare insieme a noi un prodotto customizzato, un prodotto fatto per rispondere a un'esigenza unica e specifica, particolare. e questo ci ha portato negli anni a sempre più vicino a interpretare le superfici e il materiale come un oggetto d'interio e un approccio al design. Certo. Ecco, fin qui abbiamo parlato di tutta quella che è stata l'esperienza, ovviamente in maniera abbastanza sintetica, abbiamo riassunto 150 anni in pochi minuti, però poi c'è anche un altro aspetto del vostro gruppo, della vostra impresa familiare, che è quello che riguarda la cultura, il vostro sforzo, potremmo dire, anche attraverso una fondazione che persegue valori diversi da quelli dell'impresa. Certamente è una parte veramente fondamentale, è un nucleo importantissimo della nostra attività d'impresa. Guglielmo Giordano non era soltanto un grande scienziato, tecnologo del legno riconosciuto, ma aveva una grande sensibilità per la bellezza, per i valori della cultura italiana, forse aiutato dal fatto che avendo insegnato 40 anni a Firenze, ed essendo accorso al capezzale delle opere alluvionate nel 1966, salvando un patrimonio importante culturale italiano, aveva una grande passione per la bellezza, per l'arte. Noi abbiamo mantenuto questa tradizione, abbiamo alimentato i nostri valori d'impresa, grazie anche all'attività di una fondazione a lui dedicata, che si chiama Fondazione Guglielmo Giordano, che si occupa sì di legno, di materiale, come materia prima, insomma, capace di migliorare le sorti del nostro pianeta, quindi sostenibile, in architettura, ma molto organizzando anche iniziative importanti nel campo dell'arte, indagando il filo sottile che lega la natura con la genialità umana. Il tema del natural genius, indagato nella storia antica, nella classicità, con grandi personaggi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, che abbiamo seguito in grandi mostre, ma con il gusto di andare poi a calarle nella contemporaneità, come questa straordinaria materia prima, che è la genialità, possa trovare ancora oggi un terreno fertile, soprattutto nella nostra Italia, nella nostra Europa, e alimenti gran parte del nostro vissuto. Sicuramente una parte rilevante delle imprese che operano nel campo del bello, dell'abitare, quindi delle aziende come la nostra, che ha un orientamento alla cultura della progettazione e quindi al design. Bene, quindi potremmo dire, c'è in voi ovviamente il gene dell'imprenditoria, c'è anche quello del bello e della cultura, potremmo dire. Grazie a questa straniera. Sì, perché Made in Italy in realtà, se proprio gli vogliamo dare un significato a tutto tondo, effettivamente non è semplicemente una definizione geografica, significa per un'impresa avere le radici riconoscibilmente collegate alla cultura del territorio d'appartenenza. Il Sonio Giordano si sente italiano proprio per questo, perché sente di assorbire moltissimo dai valori della cultura italiana, e la fondazione ci aiuta molto a tenere vivo questo rapporto intimo. Bene, bene, grazie ad Andrea Margheritelli per averci fatto conoscere di più di Sonio Giordano e dei 150 anni della sua famiglia, della storia imprenditoriale della sua famiglia.